salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale io sono Grace proseguiamo la nostra avventura con il gioco di titan quest anniversary edition ok ragazzi allora adesso vediamo un attimino la mappa ci troviamo esattamente qua ok erano usciti dalla biblioteca precedente nel paesello che avevamo trovato che era esattamente questo era l'uscita questo era il paesello ok adesso dunque nella biblioteca abbiamo trovato una pergamena che c'è che è stato chiesto di portarla sono andate un attimino le missioni di portarla al tempo di Ptà a Saiz va bene quindi deve essere qua vicino al villaggio di Saiz va bene e andiamo a portare la nostra pergamena ok faccio vedere un pochino già che siamo qua il nostro danno che facciamo ok facciamo danno 191 ok siamo abbastanza cazzuti e cattivi eh questa è la pergamena ok in questi sono altri oggettini che o proverò oppure andrò a mettere nel nostro inventario ok andiamo avanti vediamo un po' questo qui è il teletrasporto che abbiamo scoperto la volta precedente tempo di Ptà Ptà va bene Ptà 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 vediamo se ci sono anche dei cattivoni in giro che ci vogliono rompere gli Zebedei qua vedo tutto distrutto qua parliamo con il tipo nel tempo di Ptà è stato proprio reso al suolo devo dire grazie a tutti imhotep asked us to watch for you just yesterday this temple stood whole and complete and now look it has been ransacked by a telkin we did all we could to stop him but we were powerless against the ancient sorcerer I could not know what he wanted there are many mysteries which the order of prometheus guards mysteries from before the war of the gods and titans imhotep fled when the telkin came escaping with some of the temple's most sacred texts he left me with a message for you he has gone to memphis and waits for you there follow the nile and you will come to the great city ok mission principale la città degli dei quindi non è qua I don't think he found it though as quickly as his truck he was gone again with the same speed I don't think he's gone again with the same speed he's gone again with the same speed he will be in Memphis by now he will be in Memphis by now ok ah Memphis ok Memphis ok ok va bene allora proseguiamo il nostro viaggio e invitiamo un po' di uccidere tutti sul nostro cammino naturalmente e di trovare quel tipo che dobbiamo portargli la pergamena ok Grazie a tutti Ok ragazzi Allora ci troviamo esattamente qua Vi faccio vedere la mappa Esattamente qua Prima eravamo Esattamente qua Abbiamo fatto questo pezzettone Ci sono delle caverne che ci sono dentro dei mostriciattoli Abbastanza resistenti Potete trovare delle cose utili Quindi vi consiglio di andarle a perlustrare Ok Siamo sempre sulla strada giusta Perché stiamo andando esattamente a Menfi Ok Quindi vediamo un po' Questo tizio qui cos'è che ha da dirci Hinen Maga dell'Oriente Ok sentiamo un po' Ok missione secondaria giornata Ok premio settembre C'è un dodo della forza Va bene Infatti l'abbiamo liberata Anche se sinceramente non sapevamo che dovevamo liberarla Comunque era qua E di conseguenza ci abbiamo dato dentro Ok Proseguiamo sempre sulla nostra retta via Ok ragazzi Allora mappa ci troviamo esattamente qua Siamo nei soborchi di Menfi Allora questa zona qua ragazzi Faccio vedere Che è una zona ottima per andare a livellare Qua ci sono un bordello di nemici Non sono tanto cattivi Per quanto riguarda le nostre caratteristiche 192 218 Ok Quindi in conseguenza vi consiglio qua Di farci un pensierino Per star qua magari un po' A livellare Quindi salvare Rientrare Salvare Rientrare In modo tale così Livellate bene il vostro personaggio Per adesso Con il danno che facciamo Sinceramente I mostriciattoli nemici Non sono un granché Quindi È una cosa proprio Molto molto easy Diciamo così Ok Allora Parliamo con questo Quartiere di mercanti Gli infini Gli infini Va bene Adesso andiamo a controllare La missione secondaria Cosa dice Come ci sia da ammazzare questi qua Allora Vediamo un po' Cosa dice 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 Allora Sì C'è da riportare La tranquillità Ok Nel quartiere dei mercanti Allora Dunque 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 Vediamo un po' Se è una cosa Easy C'è da riportare Secondo di sì Un po' ok missione secondaria aggiornata infini va bene un po di energy ok andiamo torniamo a parlare col tipo vediamo un po se ci dice qualcosa di più thanks anello inciso della vita 8.500 di esperienza direi che non è male è stata una missione in cina proprio velocissima velocissima ok prima di entrare dalla parte principale vediamo un po di fare un girettino di qua vediamo un po se c'è qualcosa di interessante ok Ok, insieme, andiamo a tre... Ok, insieme, e... Ok, insieme, e... Ok, insieme, e... Ok, ragazzi, direi che ci siamo, che ci siamo, poi c'è il negoziante, ok... Il negoziante della rinascita, vediamo un po' di parlare con il tipo, piazza di Melfi, ok, ok... Negoziante... Oh, tiro di trasporto, ottimo, eccolo qua, è lui? È lui o non è lui? È lui o non è lui? Un po' di parlare, hai visto un uomo con il nome di Onos? È il mio fratello, è che si è diventato, e ho sperato il peccato. Un po' di parlare, un po' di parlare... Un po' di parlare... Ok, anche qua sono alle strette con... Eh, con i cattivoni... Perché stanno attaccando la città di Brutto, queste sono porte chiuse... Ok, che... Suppongo che si aprono, man mano, e facciamo le misse in giro. Ah, sono rilassato di vedere voi. Le cose non si vanno bene. Abbiamo davvero non preparato per battere un po' di parlare del Telkin. Nessuno ha visto uno da la guerra tra i titani e i dottori. Ma ora, sembra di essere ovunque. È più importante che sempre, che proseguiamo con la città di Invocazione. Solo i dottori possono protegereci. Grazie per ritrovare la scuola di Invocazione. Ora, mi vediamo. Per completare il rituo di Invocazione, dobbiamo prima colere l'Eye di Chaos e l'Hand di Balance. L'Eye è rumore di essere un po' di fuori di Faium Oasis. Credo che l'Hand di Balance è in Giza. Recove questi artefatti e portatele a me. Solo allora possiamo summonare i dottori. Ma sei sul tuo Dio. In questi tempi, la perola si succede. Ah, sono felice di vedere. Le cose non sono andate bene. Allora, dobbiamo ritrovare due artefatti. Semplicemente, l'Evocazione. Ok, le città... va bene. Finiamo di dare un'occhiata qua alle città. Vediamo un po' se qualcuno ha citato le informazioni. Vediamo un po' di vita. Quando faccio, è come un sogno dolore. La vita, la vita di un prezzi, era una buona. Non c'è una buona. Io sono Zazamac, il Signore di Memphis, seconde in potere per faro. La verità è, le tempi sono difficili. Vedete, con i moni e faro in giù, molti sono inizia a capire del potere. se la nostra autorità non è rispettata non c'è un ordine se non c'è un ordine le persone saranno paniche ci saranno caos e i monstri prenderanno la città tutto è ruido abbiamo magia ma non è sufficiente per stoppare i monstri senza autorità Memphis è perdita Egypte è perdita va bene altri negozianti ok qua non possiamo passare parliamo con questo va bene c'è un bordello di gente che ci ha dato un bordello di information allora vediamo se dopo tutti questi qui con cui abbiamo parlato si è aperta qualche porticina allora qua possiamo andare ok vediamo questo si possiamo andare entrambe le porte presuppongo esclusa questa qua che presuppongo che sia la prima è bloccato dalla missione infatti infatti quindi dobbiamo andare prima di là amici vi direi che il nostro episodio termina qui spero che la nostra avventura vi stia piaciuto se non siete iscritti al canale iscrivetevi se hai piaciuto un filmato lasciate un bel like vi ringrazio per il messo video ci vediamo con il prossimo gameplay un saluto a tutti da GraceGamer78 e